La città dell'Aquila ha celebrato con solennità il 172esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato all'Auditorium del Parco Renzo Piano. La cerimonia si è tenuta alla presenza di autorità civili, militari e religiose e ha visto la partecipazione di un folto pubblico che ha voluto rendere omaggio al lavoro e all'impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa. Il tema scelto per questa edizione è esserci sempre. Abbiamo scelto questo slogan che mai come in questo momento è attuale perché abbiamo verificato che a fronte di una diminuzione ormai assodata del numero dei reati permane un senso di insicurezza diffusa tra i cittadini, la cosiddetta sicurezza percepita che non corrisponde chiaramente alla sicurezza rilevata. Il questore dell'Aquila Enrico De Simone ha illustrato l'attività svolta dalla Polizia di Stato nel corso dell'ultimo anno, evidenziando i risultati ottenuti in termini di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza pubblica. Guardi ci sono delle particolarità perché è stato un anno particolarmente impegnativo soprattutto per l'Aquila, recentemente avete avuto notizia della scoperta di una cellula terroristica proprio qui all'Aquila, è stata un'operazione di importanza internazionale che hanno dato rilievo tutti i massimiglia di portata internazionale alla luce anche della conflittualità arabo-israeliana che c'è in questo momento. Abbiamo avuto un omicidio un po' brutto al centro dell'Aquila, l'abbiamo scoperto in 24 ore e poi tutta una serie di rapini, di furte fatti anche dentro delle gioellerie che siamo riusciti ad assicurare alla giustizia, gli autori che in genere sono persone di fuori della delinquenza romana che vengono in trasferta qui da noi. Il momento più toccante della cerimonia è stata la consegna delle onorificenze al personale che si è distinto per meriti speciali, un riconoscimento importante che ha testimoniato l'apprezzamento della cittadinanza per il coraggio e l'abnegazione dimostrati dagli agenti in servizio. Questa è una vera e propria missione perché si sa quando si comincia, non si sa quando si finisce e bisogna dare tutto se stessi, lo sanno bene le famiglie dei nostri poliziotti, le nostre famiglie che partecipano con lo stesso stato d'animo a tutte le attività che facciamo noi e che sono un ennesimo punto di forza per la nostra attività. Un evento significativo che ha rafforzato il senso di fiducia e di vicinanza tra la cittadinanza e le forze dell'ordine, sottolineando l'importanza del loro ruolo nella costruzione di una società più sicura e più giusta.